Da quest'altro lato del campo c'è il gruppo di ragazzi, piccoli amici, c'è il mister Simone, stanno giocando con il pallone, cominciano ad avere dimestichezza con il pallone, ecco c'è anche il mister Di Giulio, correggo il mister Giulio Massimini con il suo gruppo, i nostri ragazzi stanno qua, sono tutti qua, fino a vedico la rivista sono nuovi, sono nuovi. Dopo andiamo a prendere, lasciate i palloni!